Salute! La volta scorsa abbiamo imparato a calcolare il lavoro in diverse situazioni, ma non vi ho detto a che cosa serve e perché vale la pena calcolarlo. Oggi la vostra pazienza verrà ricompensata, almeno in parte, perché introdurremo una nuova grandezza fisica, l'energia cinetica. Vi anticipo che esistono due tipi di energia. Una è legata al moto dell'oggetto ed è appunto l'energia cinetica. E poi ve n'è un'altra che è legata alla posizione di un oggetto rispetto ad un corpo o sistema di corpi con cui è in interazione attraverso una forza e questa è l'energia potenziale. In genere un corpo possiede sia energia cinetica che energia potenziale. Oggi noi ci occuperemo soltanto dell'energia cinetica. In caso di dubbi o avete qualche domanda potete pormela attraverso i commenti e, covid permettendo, risponderò appena possibile. l'energia cinetica appare attraverso il teorema dell'energia cinetica che passo a mostrarvi. Abbiamo un punto materiale di massa m che percorre una traiettoria curvilinea gamma. Gli estremi di questa traiettoria sono i punti A e B e mentre si sposta lungo questa traiettoria è soggetta ad una forza F la quale è una forza arbitraria quindi potrebbe anche variare lungo la traiettoria sia in direzione che in modulo. Il teorema dell'energia cinetica dichiara che il lavoro compiuto dalla forza F lungo questa traiettoria curvilinea da A a B è uguale a EKB meno EKA. EK è la quantità un mezzo mv al quadrato. La quantità EK prende il nome di energia cinetica. Quindi questo teorema dichiara che un modo equivalente per trovare il lavoro che abbiamo visto nella lezione precedente è anche possibile attraverso la differenza di questa quantità chiamata energia cinetica calcolata nel punto B e nel punto A e dipende esclusivamente dalla velocità con cui il punto materiale si trova nel punto finale B e nel punto iniziale A. Ricordatevi che il lavoro e quindi questa differenza dipendono dalla curva gamma per cui se invece di usare la curva gamma per collegare i punti A e B si usasse un'altra curva per esempio questa o questa il lavoro sarebbe in generale diverso e anche la differenza di energia cinetica. Per questo motivo accanto alla lettera W che indica il lavoro ho per il momento aggiunto anche questa lettera gamma che ci ricorda che per trovare il lavoro dobbiamo calcolarlo attraverso una curva. Questo risultato è un risultato che vale sempre, vale per qualsiasi tipo di forza. Se introduciamo il simbolo delta allora possiamo scrivere questa differenza anche in questo modo. Ricordiamo che delta sta ad intendere una differenza scrivendo prima la grandezza fisica nel punto finale e poi sottraendole quella nel punto iniziale. Quindi durante questo lavoro c'è un prima e un dopo. Delta esegue la differenza tra la quantità finale meno quella iniziale e non il contrario. Intanto notiamo che EK è una grandezza scalare e questo non deve meravigliarci perché lo stesso lavoro è una quantità scalare. Quali sono le dimensioni dell'energia cinetica? Beh, non dovremmo avere alcun dubbio su questo. Se questa è una relazione corretta, essendo il lavoro misurato in Joule, anche l'energia cinetica deve essere espressa in Joule. Tuttavia è istruttivo vedere come le dimensioni dell'energia cinetica siano davvero equivalenti a quella del lavoro che sappiamo essere Joule. Qui abbiamo chilogrammi, la massa e qui abbiamo la velocità al quadrato. Ora è semplice notare che si può scrivere. Quindi abbiamo una massa, qui abbiamo le dimensioni di un'accelerazione, quindi massa per l'accelerazione è una forza. Le forze si misurano in newton, quindi è newton per metro e quindi Joule. Niente di eccezionale. Notate che l'energia cinetica di un corpo aumenta, cioè delta EK è positivo, se il lavoro della forza è positivo. Vale la pena ricordare che qui c'è il simbolo di uguaglianza, quindi può essere letta in due modi. Il lavoro mi produce una differenza di energia cinetica, ma talvolta io posso osservare di un corpo la sua energia cinetica prima e dopo uno spostamento e dalla misura delle due energie cinetiche ricavo il lavoro eseguito dalle forze in gioco. Questo ho detto che è un teorema e quindi esiste una dimostrazione. Chi conosce l'analisi matematica può dimostrare questo teorema in diversi modi, tutti eleganti. Io vi propongo invece una dimostrazione elementare. Supponiamo di avere un punto materiale che si sposti di moto rettilineo con accelerazione uniforme. Il nostro punto materiale va dal punto A al punto B lungo una retta con accelerazione costante. Lungo questa direzione immaginate di aver introdotto il solito asse X orientato per esempio così. AX è la componente della velocità nella direzione X. Sappiamo che la posizione lungo l'asse del nostro punto materiale è data da questa relazione che lega la posizione all'accelerazione nel caso del moto con accelerazione costante. Quindi sappiamo che T1 è l'istante di tempo in corrispondenza del quale si conosce la posizione iniziale e la velocità iniziale. E quest'altra è invece l'espressione che ci ricorda quanto vale la velocità al passare del tempo. Dalla seconda relazione ricaviamo T-T1 che è questa quantità e quello che occorre fare adesso è sostituire questa quantità qui dentro e qui dentro ed eseguire un po' di calcoli. Al termine si ottiene questa relazione. Questa relazione l'avevamo già incontrata quando abbiamo risolto una serie di esercizi sul moto rettilineo uniformemente accelerato per cui chi mi segue la conosce già. A questo punto sia a sinistra che a destra di questa equazione moltiplichiamo tutto per m. Qui c'è il prodotto della massa per l'accelerazione posseduta dal corpo durante il suo moto. Quindi questa qui non è altro che la componente della forza nella direzione x. X è la posizione finale, x1 è la posizione iniziale e quindi questo qui non è altro che lo spostamento. E qui vedete abbiamo m per v al quadrato diviso 2, v che è v è la velocità finale, v1 è la velocità iniziale e quindi questa qui è l'energia cinetica nel punto finale e quest'altra invece è l'energia cinetica nel punto iniziale. E quindi vi ho dimostrato che questo risultato è una diretta conseguenza della seconda legge della dinamica m per a nel caso in cui abbiamo un'accelerazione costante. Nel caso generale quando la forza varia lungo la traiettoria del corpo che cosa occorre fare? L'abbiamo già visto nel video precedente, occorre suddividere quella traiettoria in tratti rettilinei abbastanza piccoli da ritenere che la forza lungo quel tratto sia costante. Supponiamo di avere tre forze lungo questo tratto rettilineo, la forza F1 risulta essere costante nel tratto AB, quindi accompagna il corpo da AB, quindi nel tratto BC interviene la forza F2 che non varia lungo quel tratto, nell'ultimo tratto interviene la forza F3 che è cambiata ma agisce in maniera costante sull'ultimo tratto. Il lavoro da A a D, lo sappiamo, è il lavoro da AB della forza F1 più il lavoro da B a C della forza F2 più il lavoro della forza F3 da C a D. Per quello che abbiamo visto poco fa il lavoro da AB posso scriverlo come l'energia cinetica in B meno l'energia cinetica in A più poi abbiamo il lavoro BC e quindi è l'energia cinetica in C meno l'energia cinetica in B più l'energia cinetica in D meno l'energia cinetica in C. Ed ora non ci resta che osservare che in questa formula appare EKB ma sono opposti quindi posso cancellarli e la stessa cosa accade anche con EKC quindi il risultato finale è proprio EKD che è l'energia cinetica nel punto finale meno EKA l'energia cinetica nel punto iniziale quindi abbiamo ritrovato ancora il teorema dell'energia questa dimostrazione può essere impiegata anche nel caso di percorsi curvilini quindi gli esercizi come al solito sono tratti dal libro quantum della sei editrice di torino primo volume daniela sta arrivando a scuola con il suo motorino di massa 40 kg alla velocità di 43,2 chilometri all'ora qual è l'energia cinetica del motorino per un osservatore fermo sul ciglio della strada qual è l'energia cinetica del motorino per daniela questo esercizio è piuttosto semplice si tratta di applicare la definizione di energia cinetica e quindi di sostituire a m e a v i dati che ci vengono forniti la velocità occorre prima trasformarla in metri al secondo ottenendo 12 metri al secondo e poi sostituendo i valori si trova 288 joule l'energia cinetica dipende dalla velocità e la velocità è una grandezza che molto spesso ci dimentichiamo che è una grandezza fisica relativa un oggetto può avere una velocità pari a zero o diversa da zero a seconda del riferimento nel quale essa viene misurata rispetto a un osservatore fermo o alla semplice strada il motorino e la stessa daniela viaggiano alla velocità di 43,2 chilometri all'ora ma appunto la velocità di daniela non è assoluta cambiando riferimento la velocità potrebbe cambiare ora vuole sapere qual è l'energia cinetica del motorino per daniela per daniela significa rispetto a daniela in questa nuova situazione daniela è ferma e il suo motorino al passare del tempo mentre viaggiano insieme non cambia posizione rispetto a daniela cioè il motorino rispetto a daniela è fermo quindi la velocità del motorino rispetto a daniela è zero e quindi la sua energia cinetica vale zero e guardate adesso quest'altra situazione in cui abbiamo daniela che viaggia a 50 chilometri all'ora in questa direzione e in direzione opposta viaggia francesca sempre con velocità di 50 chilometri all'ora possiamo chiederci qual è la velocità di daniela rispetto a francesca prima l'osservatore cioè il luogo dove risiede la strumentazione che effettua le misure era fermo adesso invece è in moto dobbiamo trovare la velocità di daniela rispetto a francesca e il risultato è 50 meno meno 50 visto che francesca viaggia in direzione opposta e quindi si ottiene 100 chilometri all'ora questo esempio mostra che se si va ad urtare contro un oggetto che viaggia alla nostra stessa velocità in direzione opposta è come se si andasse a urtare contro un oggetto fermo ma con una velocità doppia andare a urtare a una velocità doppia a causa di questo quadrato comporta poi una energia cinetica che risulta essere quattro volte superiore e questo spiega per quale motivo quando si fanno incidenti con macchine che viaggiano anch'esse a velocità bassa ma in direzioni opposte poi i danni possono essere notevoli abbiamo visto che l'energia cinetica può avere come valore più basso il valore zero ma qual è il valore più alto dell'energia cinetica apparentemente in questa formula nulla mi vieta di immaginare una velocità enorme grande a piacere in realtà andando avanti con gli studi si impara che esiste una velocità limite che è quella della luce nella teoria della relatività si postula che non è possibile viaggiare ad una velocità pari o superiore a quella della luce per cui questa espressione se è vera la teoria della relatività deve essere una espressione scorretta o quantomeno approssimata ed è proprio così l'espressione corretta dell'energia cinetica che tiene conto di questo limite invalicabile per le velocità è invece la seguente in cui il fattore gamma noto come fattore di lawrence ha questa espressione oppure quest'altra questa è l'espressione corretta e che potremmo benissimo usare nell'esercizio precedente e in tutti gli altri esercizi in cui appare l'energia cinetica tuttavia le velocità con cui avremo a che fare in tutti questi esercizi sono velocità che vedete sono divise da c c è appunto la velocità della luce ed è questa velocità nei nostri problemi gli oggetti rimarranno ben al di sotto di questa velocità e questo comporta che il rapporto v diviso c sia un numero minore di 1 e molto piccolo se questo è il caso allora si può dimostrare che questa espressione si riduce a quella nota cioè un mezzo mv al quadrato e voglio mostrarvi come in effetti questa espressione complicata si riduce alla nota espressione dell'energia cinetica per farlo devo ricordare una approssimazione che viene usata tantissimo in fisica quando bisogna calcolare una quantità di questo tipo 1 più elevato ad n in cui u è una quantità che in valore assoluto è molto minore di 1 ed n è un numero reale in questi casi si può dimostrare che una ottima approssimazione del risultato è la seguente 1 più n u quindi daremo per buona questa espressione chi non ci crede per esempio può provare a calcolare in modo esatto questa quantità sviluppando il cubo del binomio e vedendo che cosa esce nel frattempo se uso questa espressione e mi accontento di una buona approssimazione so già che uscirà 1,0003 ti invito a trovarlo in maniera esatta e a vedere quanto questa approssimazione differisce dal valore esatto e questa approssimazione diventa tanto migliore quanto più piccolo è questo numero come faccio ad usare questa espressione per semplificare il fattore di lawrence è semplice allora nel mio caso n vale meno un mezzo e per quanto riguarda u esso coincide con meno v diviso c al quadrato cioè posso scrivere il fattore di lawrence 1 più meno questa quantità per cui avrò gamma è circa 1 più n abbiamo detto è meno un mezzo per u nel nostro caso è meno v diviso c al quadrato che posso riscrivere meglio come 1 meno un mezzo v al quadrato diviso c al quadrato ed ora per completare prendo questa quantità e la sostituisco al posto di gamma naturalmente qui è più perché meno per meno fa più sostituisco e quindi vedo che 1 se ne va con questo meno 1 e quindi l'energia cinetica a questo punto vale cioè c al quadrato c al quadrato se ne vanno e mi rimane l'espressione che già conoscevamo quindi lo ripeto ancora una volta l'espressione dell'energia cinetica che stiamo usando nei nostri esercizi è una espressione approssimata che funziona fin tanto che avremo a che fare con velocità molto piccole rispetto a quella della luce quando le velocità diventano elevate allora bisogna ricorrere all'espressione esatta che è questa qui un carrello di massa 250 grammi che si sta muovendo alla velocità di 0 40 metri al secondo viene accelerato da una forza di 1,4 newton per un tratto di 1,8 metri parallelo alla forza determina il lavoro svolto dalla forza la velocità finale del carrello la prima domanda è piuttosto semplice abbiamo imparato a trovare il lavoro nella prima lezione si tratta di applicare a questa definizione alfa vale 0 in quanto la forza e lo spostamento sono paralleli quindi il coseno di 0 vale 1 faccio questa semplice moltiplicazione trovo 2,5 joule per quanto riguarda l'altra domanda devo usare l'espressione del teorema dell'energia cinetica ho il lavoro e qui ho l'energia cinetica finale qui l'energia cinetica iniziale l'energia cinetica iniziale ce l'ho quindi la mia incognita la velocità è nascosta dentro l'espressione dell'energia cinetica calcolata nel punto b e quindi vado a esplicitarla quindi risolvo rispetto all'energia cinetica nel punto b e questa è il lavoro da a a b più l'energia cinetica nel punto a risolvendo rispetto a vb si ottiene e il risultato sostituendo i dati in questa relazione è 4.5 metri al secondo quindi notiamo che essendo il lavoro positivo la velocità finale del punto materiale è risultata maggiore di quell'iniziale invece la velocità finale sarà inferiore a quella iniziale quando la forza agisce in direzione opposta in questo caso provoca un rallentamento e il lavoro risulta essere negativo una forza f parallela a un piano inclinato compie un lavoro di 11,8 joule trainando in salita in assenza di attrito per una distanza di 2,80 metri un blocco di 460 grammi sapendo che la velocità del blocco partito da fermo alla fine del percorso è 1,4 metri al secondo calcola l'inclinazione del piano intanto procediamo con il disegnare il piano inclinato con tutte le forze in gioco la forza in gioco lo sappiamo l'abbiamo visto nel video precedente sono la forza f parallela al piano inclinato la forza peso e la normale al piano ci sta fornendo il lavoro della forza f quindi questo 11,8 non è il lavoro della risultante ma il lavoro solo della forza f quindi lo scrivo in questo modo tra parentesi vedete indico la f poi mi dà lo spostamento mi dà la velocità iniziale ed è 0 quindi parte da fermo mi è stato detto la velocità finale la conosco ho la massa dell'oggetto che è 0,46 kg visto che parla di lavoro parla di velocità e di forze quindi mi sta suggerendo di usare il teorema dell'energia cinetica e che io scrivo subito il lavoro da a a b di chi della risultante le variazioni di velocità sul piano inclinato sono un effetto della presenza di queste forze quindi devo collegare quella variazione di energia cinetica che conosco con il lavoro totale con il lavoro della risultante e quindi esso vale l'energia cinetica nel punto b meno l'energia cinetica nel punto a l'energia cinetica nel punto a la conosco e vale zero perché abbiamo detto il corpo parte da fermo l'energia cinetica nel punto finale la conosco ancora non vedo dove si trova la mia incognita cioè l'inclinazione del piano quest'angolo alfa deve trovarsi nel primo membro di questa equazione e per scovarla vado ad esplicitare meglio questo termine noi sappiamo che la risultante r e n più f più p e quindi vado a sostituire questa espressione qui dentro e quindi il lavoro di ab della risultante come abbiamo imparato nella prima lezione diventa il lavoro di n più il lavoro da ab della forza f più il lavoro da ab della forza p e tutto questo vale kb osserviamo questi tre termini il lavoro della normale lo conosco e vale zero anche se non conosco quanto vale n perché agisce perpendicolarmente al piano inclinato quindi il coseno di 90 gradi vale zero il lavoro della forza ab ce l'ho e 11,8 joule quindi l'angolo la mia incognita deve trovarsi dentro l'espressione di vab e vado a questo punto a esplicitare meglio il lavoro della forza p e noi l'abbiamo visto sempre nella prima lezione in un esercizio analogo moltiplico la componente di p nella direzione dello spostamento e questa qui vale meno mg seno di alfa per lo spostamento delta r questa componente mg seno di alfa adesso la disegno meglio è questa qui questa è la componente parallela al piano e quindi nella direzione dello spostamento e il segno meno che trovate qui proviene dal coseno di 180 gradi 180 gradi è l'angolo che questa forza compie con lo spostamento a questo punto ho individuato l'incognita l'incognita è seno di alfa sostituisco questa espressione qui dentro e posso ottenere abbiamo capito l'incognita è seno di alfa e quindi seno di alfa è uguale per quanto riguarda e kb posso scriverlo ancora meglio quindi vedete che conosco tutti questi dati e quindi posso trovare il seno di alfa che è usando la calcolatrice scientifica e trovando l'arcoseno di questo numero posso facilmente trovare alfa che è circa uguale 64 gradi ultimo esercizio l'energia cinetica di un punto materiale di 0,5 kg aumenta di mille joule per effetto di una forza che agisce parallelamente ad uno spostamento rettilineo di 2,5 metri trova la forza media in quel tratto l'aumento di energia cinetica è proprio la variazione di energia cinetica cioè delta e k e quindi io so che il lavoro svolto da questa forza che non conosco è proprio pari a delta e k è pari a 1000 ci chiede di trovare la forza media perché non ci chiede di trovare la forza in quel tratto perché da questa informazione io non so come è fatta la forza la forza potrebbe variare potrebbe avere un andamento tipo questo qui o potrebbe averne un altro di questo andamento io conosco il lavoro conoscere il lavoro significa conoscere l'area che sta sotto questa curva come abbiamo già imparato ma esistono infinite forze che possono dare vita a un'area di 1000 joule quindi l'unica cosa che posso provare a determinare è appunto la forza media trovare la forza media significa supporre che la forza sia costante non vari nell'intervallo di 2,5 metri e quindi posso scrivere il lavoro in questo modo e da questa ricavo 400 newton dal punto di vista geometrico che cosa rappresenta fm una volta che ho trovato fm fm per mi determina l'area di un rettangolo la cui area vale ancora 1000 joule quindi trovare fm dal punto di vista geometrico significa approssimare quest'area con l'area di un rettangolo la cui base è delta r e la cui altezza è proprio fm supponiamo che fm sia questa quindi io ho approssimato dicevo l'area gialla con quest'altra area che adesso riporto in verde e con questo è tutto la prossima volta ci occuperemo di energia potenziale vi lascio con questo piccolo esercizio mettetevi alla prova e potete se vi va scrivere la soluzione nei commenti daniela viaggia a 50 chilometri all'ora di quanto deve aumentare la sua velocità affinché la energia cinetica raddoppi vediamo se c'è qualcuno che risponde rapidamente e magari spiega pure come c'è arrivato e con questo è davvero tutto ma alla prossima